Con l'apertura del nuovo anno si riempiono di proposte vivaci i teatri napoletani. Vi segnaliamo allora alcuni fra i più interessanti spettacoli che saranno in scena fino a domenica. Al teatro Bellini ritorna Moni Ovadia con il registro dei peccati, un lavoro ispirato all'opera rivoluzionaria di personaggi che hanno trasformato la cultura del Novecento, da Freud a Marx e da Einstein a Chagall, esplorando con ironia e levità le ragioni spirituali delle grandi architetture del pensiero. Emma Dante mette in scena a Galleria Toledo il suo nuovo spettacolo Acqua Santa, coprodotto dal teatro Mercadante e interpretato da Carmine Maringola, una storia di mare e d'illusioni iscritta nella trilogia degli occhiali dell'autrice e regista palermitana. A Sala Icos, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, va in scena Ferdinando, l'ultima scrittura di Annibale Ruccello con la visionaria regia di Salvatore Mattiello, che trasforma il protagonista dell'opera nell'inconfessabile ossessione degli altri personaggi. E ancora al piccolo Bellini, Antonella Morea e Roberto Azzurro interpretano Canta o Sparo, con la regia di Fabio Cocifoglia, una scrittura leggera e brillante di Maglio Santanelli, che ha debuttato con successo nell'edizione 2011 del Festival Teatrale di Positano.